E' un'emozione grandissima perché credo che questo gruppo ha fatto un'impresa straordinaria e va elogiata in tutti i modi perché veramente chiudere il campionato con una partita così e pareggiarla era veramente brutto, siamo riusciti fino alla fine a dimostrare il carattere, la determinazione e la voglia che ha questo gruppo. E' giusto così, torniamo nella nostra categoria, quella che si merita in cittadella. Che emozione si prova allora, partita decisiva, vittoria si torna subito in Serie B. Indescrivibile, quello che volevamo è una gioia immensa, è da dedicare a tutti, a tutto il pubblico, società e tutti, io, a mia figlia e mia moglie che sono qui, che mi sono sempre vicino, indescrivibile. Complimenti. Grazie. E' incredibile, abbiamo lavorato tanto, ce l'abbiamo messa tutta veramente, guarda, ripaga un anno di sacrificio, è un gruppo straordinario. Era il più bel sogno che potesse capitarci, l'abbiamo voluto fino in fondo, ci abbiamo creduto e i ragazzi meritano veramente un grande applauso, hanno fatto una cosa incredibile. Il grande gruppo è stata la nostra forza, come lo è sempre stato per il cittadella e credo che lo sarà sempre, insomma, quindi questo va dato merito e credo sia stata una grande vittoria, meritata. Raggiungere l'obiettivo così dopo l'anno scorso è fantastico, è una gioia che è meritata per questo gruppo, perché ha sudato e ha corso senza sosta e ha ottenuto quello che meritava. L'ho sentita tanto, dopo un anno, dopo l'anno scorso, sono rimasto, avevamo questo grande obiettivo e riuscirci in questo modo è qualcosa di indescrivibile, è difficile anche da provare. Tanto insomma il traguardo che siamo riusciti ad raggiungere, niente, adesso ci godiamo un momento e niente, pensiamo già all'anno prossimo.